La carretta non partirà più. Oh, il diavolo. Ma siamo sicuri di voler vivere come persone oneste, eh? Cos'è? Conviene che ti ci abitui. Ehi, Igor. A quanto pare abbiamo compagnia. Oh, il diavolo. Oh, il diavolo. Ci hai messo un po'? Qualche problemino per approvare i documenti. Aspetta, voglio presentarti qualcuno. Ah, vieni, tesoro. Ma che carina. Ha dei bellissimi occhi. Di sua madre. Dove l'hai presa quella? L'ho vinta? A carte? Sì, come no. Veramente? Quanti cavalli ha questo gioiello? 500. Sei sicura? Mhm. Qualcuno una volta mi ha chiesto se pensavo di essere il futuro migliore per la mia bambina. È una cosa a cui ho pensato molto. E questo è quello che ho deciso. Nessuno è perfetto a questo mondo. E io meno che mai. Ma nessuno potrebbe amarla più di quanto la amo io. E alla fine è questa la cosa importante. Lei è la mia occasione di avere qualcos'altro. Qualcosa di meglio. Ed è escluso che me la lasci sfuggire.